Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Io credo che innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi perché vincere contro una squadra come Latina, al di là della prestazione che in certi frangenti poteva essere migliore di quella che è stata offerta, soprattutto per quello che ha detto bene lei, la capacità di chiudere le partite avendo delle possibilità e soprattutto magari con meno egoismi in certi frangenti da parte degli attaccanti, in modo che si possa essere un po' più tranquilli perché poi è un attimo andare in difficoltà e rischiare anche in superiorità numerica perché poi subentra un aspetto psicologico. Credo che ci sia stato anche un calo dal punto di vista fisico al centro campo e poi abbiamo sprecato, sprecato, sprecato e abbiamo dato l'opportunità a Latina di rientrare, Latina che era impensabile venire e non poter soffrire nulla. È un campionato complicato contro chiunque, per cui merito a Latina di non aver mai mollato, anche in inferiorità numerica e alla fine ci teniamo stretti questi punti che servono comunque ad accrescere l'autostima dei ragazzi e vorrei sottolineare che anche oggi siamo partiti con 5 under. Sta molto a noi in quello che facciamo attraverso risultati e meglio ancora attraverso le prestazioni a riavvicinare o a far risbocciare l'amore che è sempre stato un legame forte fra tifoseria e squadra.